F contro F, ovvero Folgore-Veregra contro Fano, un derby quasi inedito tra due squadre che si affrontavano a viso aperto per guadagnare quei tre punti che servono per mantenere dritta la barra dei propri obiettivi. Salvezza per i veregrenzi, Lega Pro o quantomeno playoff per i fanesi. Obiettivi diversi per squadre diverse. I padroni di casa sono una robusta squadra di categoria. Gli ospiti hanno giocatori che quando sono in giornata fanno del collettivo Granata una squadra di altra categoria. In settimana silenzio stampa per ritrovare concentrazione per i veregrenzi. I tifosi si augurano che la squadra parli coi fatti in campo. Il Fano vola avendo iniziato alla grande il 2016 con due vittorie su due che diventano tre sommandoci anche quella dell'ultimo turno del 2015. Mancano Radcenco e Traini nella Folgore-Veregra. Ginestrano Dari nel Fano, oltre a Sartori, squalificato per otto giornate. Alessandrini però recupera Camilloni e Favo, entrambi in campo dal primo minuto. All'andata al Mancini finì 3-0 per i fanesi. Ottima rappresentanza di tifosi Granata al La Croce di Montegranaro. Nevica a tratti, terreno pesante a Montegranaro. Vediamo insieme come è andato allora questo derby tra Folgore-Veregra e Stefano. I primi dieci minuti di gara sono vivaci e la Folgore fa venire più di un brivido a Marcantonini. Al sesto fuga di sbarbati sulla sinistra ma il numero 7 di casa pretende troppo dal suo dribbling. Poi poco dopo Nazziconi dalla destra crossa in area ospite. La difesa Granata sventa. All'ottavo da corner la palla attraversa tutta l'area ospite senza che nessun avanti calzaturiero intervenga a far del male. E poi al decimo, grazie a una di quelle giocate degli uomini di maggior spicco, l'alma passa. Borrelli recupera sulla sinistra un bel pallone ed effettua un cross al bacio sul secondo palo per la testa di Gucci che s'avventa di prepotenza e potenza sul cuoio e insacca il vantaggio del Fano. Folgore-Veregra 0, Fano 1. Niccolò Bucci. Passano 5 minuti e il Fano raddoppia. Marianeschi in becca a Sivilla scattato in maniera regolare secondo la terna arbitrale. Il numero 7 ospite si trova solo soletto a tu per tu con Marani e non ha difficoltà a scavalcarlo regalando il raddoppio alla sua squadra. Folgore-Veregra 0, Fano 2. Andrea Sivilla. Numerose le proteste dei padroni di casa per la posizione di partenza dell'attaccante fanese, ma le immagini in nostro possesso non chiariscono del tutto la questione. Due gol in 5 minuti sono un pugno nello stomaco per la Folgore che stenta a riorganizzarsi, mentre il Fano continua a far vedere cose notevoli dal punto di vista della manovra corale e della tecnica individuale. Minuto 29, Gucci vicino al Tris. Il bomber di Bagno a Ripoli viene lanciato sul filo del fuorigioco da Borrelli, fugge verso Marani, poi scaglia il suo dardo che finisce però di poco alato. Al trentatresimo continua il Fano. Sivilla allarga troppo il destro, poi il Tris, vero e proprio, arriva al trentasettesimo, quando Mandorlini atterra Marianeschi in area di rigore. Marianeschi protagonista di una poderosa percussione in area locale. Sul dischetto va Sivilla che realizza il 3-0 e anche il suo secondo sigillo personale in questo derby. E così, Folgore Vere Grazzero, Fano 3. Di nuovo lui, Andrea Sivilla. Ed è su questo punteggio, Folgore Vere Grazzero, Fano 3, che scendono i titoli di coda del primo tempo. Partita messa in ghiacciaia dal Fano con altri 45 minuti da giocare. In sostanza ci vorrebbe un mezzo miracolo della Folgore nella ripresa per ribaltare il punteggio. Ma vediamo. Intanto è sempre il Fano nel secondo tempo ad andare vicino al gol dopo 3 minuti. Gucci va via sul filo del fuorigioco, si presenta davanti a Marani, lo salta, si allarga, poi al momento del tiro il suo shoot non inquadra la porta. Due minuti dopo fallo di Verruschi su Padovani ai 25 metri. Della punizione si incarica Mannoni che lascia partire un destro velenoso stoppato dal gomito di Lunardini in barriera. Maranesi di Ciampino assegna il penalti ai locali. Massima punizione che si incarica di battere Pedalino che calcia forte, tira angolato, ma Marc Antonini è un felino e ribatte il calcio di rigore. Giornata davvero storta per i veri grenzi oggi. Ancora una buona occasione per la Folgore al quattordicesimo. Padovani a centrocampo, innesca Sbarbati che a sua volta innesta il turbo e vola verso la porta granata. Carica il sinistro, Marc Antonini dice ancora di no. Come vedete la partita si mantiene sempre viva e vivace e divertente. Le due squadre giocano aperte e giocano davvero al calcio. Diciassettesimo Borrelli prova il tiro, deviato, Marani blocca. Ventisettesimo ci prova il neo entrato Ambrosini, Marani si salva in corner. Poi al trentesimo la Folgore rimane in dieci. Rosso diretto ad Arcolai per fallo su Marianeschi a centrocampo. Quindi locali sotto di tre gol e in inferiorità numerica da qui alla fine del match. Match che regala ancora qualche emozione in coda. Ad esempio al trentacinquesimo quando Borrelli prova il destro ma esce di poco alto e quando Marianeschi di sinistro chiama ancora alla parata Marani. E da Marani a Maranesi, ovvero l'arbitro della disfida odierna, Maranesi che dà il triplice fisco finale e quindi finisce così. Folgore vera che da zero fanno tre. Bella partita, squadre volitive che sanno quello che vogliono e lo mettono concretamente in campo. Ma la differenza oggi l'ha fatta il potenziale delle due squadre. La Folgore ha fatto la sua partita e deve riflettere sugli errori commessi. Ma i locali oggi hanno trovato davanti a sé un ostacolo davvero grande. Il fanno non solo era in forma ma in alcuni elementi era davvero in stato di grazia e quando capitano giornate così alla squadra Granata non è precluso nessun obiettivo. Al termine del match la intervista ai due allenatori Luigi Zaini della Folgore Veregra e Marco Alessandrini del Fano. A tratti i ragazzi mi sono piaciuti, forse non mi sono fatto capire io per quanto riguarda il gol che abbiamo preso perché è una settimana da giovedì che parlo su certi movimenti che fanno loro. Forse non sono riuscito io a farmi capire per quello che dovevamo fare soprattutto sulla sinistra perché è un modo di fare che loro hanno in alcune giocate e lì abbiamo pagato Dazio. Quindi va bene, sapevamo che affrontavamo una grossa formazione come il Fano. Abbiamo fatto anche un buon approccio alla partita, secondo me abbiamo avuto 3-4 ripartenze importanti, non le abbiamo sfruttate, le abbiamo sfruttate male. Poi da lì c'è stato il gol che sicuramente contro il Fano pesa. Il 2-0 mi dicono che era fuori gioco ma io dalla mia posizione è assurdo vedere. Quindi andiamo avanti e vediamo pian piano di risistemarci come prima. Sicuramente è stata una partita importante perché non era facile vincere contro la Folgore, è un'ottima squadra, lo testimoniano anche i giocatori che è a disposizione, perciò brava la squadra a imporre, brava e fortunata adesso non lo so, andare subito sul doppio vantaggio e poi meritare ampiamente la partita nell'arco di tutti i 90 minuti, ha avuto continuità, ha dato intensità, ha creato occasioni, perciò bene insomma, per quanto riguarda oggi molto bene. Mister, state bene in salute fisicamente? Ma noi normalmente siamo sempre stati bene, adesso ci possono essere partite magari che, però insomma normalmente stiamo bene, cerchiamo di proporre un calcio positivo, a volte ci si riesce di più, a volte di meno, però l'importante è che in questo momento la squadra abbia convinzione, abbia condizione e magari possa ripetere partite come quelle di oggi che non sarà sempre facile. Il secondo gol di Sivilla, lei l'ha visto? Qualcuno dicevano fuori gioco, qualcuno no, lei l'ha visto? Cosa dice? Cioè, dal campo la percezione è stata che è partito dietro su una palla libera, loro sono stati fermi, però adesso da qui a dire non sarei in grado, insomma in questo momento direi una cosa non vera, però dal campo ho avuto la sensazione che il giocatore si è partito con i tempi giusti, però questa è una sensazione che non posso giudicare.